Alessandro dopo un mese si torna al Pallapanini, sono successe tante cose, è andato avanti il campionato, c'è stata la Coppa Italia, si è ricominciato col campionato, adesso uno sprint finale che dice Conegliano domani appunto, poi Busto e Casal Maggiore. Sì, sono successe tante cose, però quello che conta è domani e quello che succederà da domani in poi è assolutamente per mantenere la posizione in classifica sicuramente, per continuare a giocare come comunque siamo riusciti a fare prima e addirittura secondo me migliorare sotto alcuni aspetti, cosa che possiamo ancora fare in vista dei pre-off. Che tipo di lavoro hai ripreso questa settimana? È stata la prima settimana diciamo normale dopo tanto tempo, c'è stata la Coppa Italia in cui c'è stato un periodo di avvicinamento dove avete caricato molto in attesa dei quarti, poi dopo un altro periodo intermedio in attesa della Final Four, la scorsa settimana ovviamente è stata particolare, questa insomma si torna una malattia. È stata la prima settimana normale da parecchio tempo, normale tipo standard, stiamo ancora lavorando parecchio più dal punto di vista fisico nel senso che il tempo di lavoro tecnico ovviamente è diminuito un pochino in previsione di quello che sarà nei pre-off dove ci sarà poco tempo per allenarsi e fare, però non ci sono più settimane di carico come precedente a Coppa Italia. È stata finalmente una settimana con allenamenti mattina pomeriggio di palla completa, totale, ci mancava da un pochettino e adesso le prossime settimane saranno tutte uguali, proprio in previsione di arrivare ai play-off nella migliore condizione tecnica, tattica e fisica possibile. Al di là dei risultati, l'obiettivo è trovare ritmo e punto continuità in vista di una serie di tante partite, se contiamo anche i play-off un po' come è stato il lavoro nella prima parte di stagione? Sì, sì, c'è assolutamente la continuità e la consapevolezza di alcune caratteristiche che abbiamo e che dobbiamo portarci adesso, con noi c'è poco, l'abbiamo già detto prima della Coppa Italia, c'è poco più da aggiungere, abbiamo provato a inserire qualcosina, stiamo provando più che altro a perfezionare alcune cosini. Alla fine, guardando proprio solo la partita di domani, Conegliano, squadra forte, che però ha concesso in questa lunga parte di stagione, diciamo, magari qualcosa in più di Novara? Sì, è una squadra che è partita con tutti i favori dei pronostici e giustamente anche perché hanno grandissime giocatrici di qualità, hanno avuto infortuni, problemi, problematiche varie, e adesso sembrano ripartiti, ritrovando alcuni giocatori che erano infortunati, gli ultimi risultati, una bellissima prestazione di Coppa Italia, l'ultima settimana hanno vinto, sembrano aver ritrovato un ritmo, ma sarà una sfida come tutte le partite che stiamo affrontando, estremamente difficile, pensiamo a loro ovviamente, perché sono i nostri avversari, ma pensiamo a noi stessi.